Vai! Allora, select, save plus slot, ah, questo qua. Pomb, select, deselect. Ah, ok, name. Van, surname, helsing. Allora, vediamo un po'. Selezioniamo, selezioniamo, selezioniamo. Tutto, seleccioniamo tutto, dai. Perché, tipo, mettiamo questo. Non vedo che cosa c'è, no, vabbè. Attenzione. Vediamo com'è sto gioco. Allora. È un po' caricamento. È in caricamento su TheFreshMega. Vediamo un po'. Ok. Hi, guy. Welcome to your new office. Open up the matter to contain the letter of the eye. Ok. Quindi. Interact. Eh, l'ho fatto. Ah, forse in questo qua devo fare interact. Ok. Ok. Ah, forse devo andare immediatamente, vediamo qua. Questa non posso aprirla, ok. Ah, ok. We have provided you with some equipment. There is an house paid to set up a free trading space. Ok, vediamo un po'. We make sure provide. Ok. Sì, 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 l'ho detto, l'ho detto. Allora. Proviamo a vedere questa qua, intanto. Sometimes we need to do this meat, or only to see what's inside. Ok, quindi dobbiamo prima sustaccarlo tutto. Allora. Forse prima bisogna... Ok, questo qua no. Però no, questo qua. Ah, ok, sì. Perfetto. Vai. Vai. We have created doomy dwomb for you to practice on. Ok, quindi non c'è... Non c'è la bomba lì dentro. Vediamo un po' qua. Piano, piano, che se qua... C'è la bomba su cazzi. Ok, proviamo a vedere qua. Time bomba are the most common type of explosive we'll find. To disassemble the bomb we have to cut the correct wireless. Light on the bomb will tell you to the color of the wire to the cut. Remember that this type of bomber carry you to the foos there's chain in the mouth of time. Ok. Black. Non c'è nessun black. Arancione. No! Restart. Cazzo. Blu. Fucsia. Giallo. Verde. No, sto sudando. Ok. Rosso. Azzurro. Sì. Ok. Arancione. Ci abbiamo fatta. Mob tutorial passed. Attenzione. Discut. What? Cambito to check out. Sì, ma non ho capito. Adesso posso andare dalla fare? Eh, ma no. No. Aspettate, c'è qualcosa che non ho capito. Cos'è che devo fare adesso? Eh, ma non posso aprirla. Grab the key. E dove cazzo sarebbe? Ah, lì la key. No, aspetta. Allora, c'è. Dove cazzo dovevo prendere la chiave? Scusate. Ah, qua. Ok, l'ho vista. Cazzo, dicevo. Dove cazzo dovevo prendere la chiave? Aspetta. Questo? Ah, la porta. Ok. Ok. Personal computer workbench to the left and two blackboards. If you want more about him to check out of these blackboards. Ok. Alive. Fico. Sono riuscito a passare il primo livello, a quanto pare. 4 minuti e 29. Beh, dai. Non è anche un po'. Tanto. Ok. Ok. Vediamo. Beh, sembrava carino, dai. Carino. Come cazzo si fa a uscire? Ah, ok. E look of map. Dov'è la mappa? Qua è la mappa. Ok. City, factory o forest? Pu. City, factory o forest? Ma mi sa che posso andare solo in city, sai. Tavo guardando. Ok, no. Posso andare solo in city, scusami. Non ti ho chiesto dove andare, ma in realtà potrò andare solo in city. Ok, vediamo un po'. Eh, scusa. Pensavo di poterlo andare aggrinati. Pensavo di poterlo cliccare. Non sembra brutto comunque il giochino, dai. Non sembra male. È un po' come l'altro, però qua devi fare più attenzione agli oggetti e alle cose. Speriamo di non morirci male. Vediamo. Ok. Dai. Gioco, sei morto? Se ci sei ancora, batti un colpo, gioco. È morto veramente? Ah no, ok. Ok, rookie, be careful. Ok. There is a package of the bench. Someone called the same and you're clicking inside. What's inside? Aspetta, prima guardiamo quello che c'è in to... Ah no. Ok. Dentro sembrerebbe che c'è un cappello. Ok, qua c'è un cappello. C'è una sveglia. Ok, ok. There is not... There is not inside. If you're reading this, just know that you are exactly where I want you to be. Well, you have been busy setting up the perimeter and going through this box. I had an out time to place bombe in multiple places in the city Oh cazzo Ah ok Ok quindi sto qua praticamente Mentre noi eravamo qua Ha iniziato a piazzare bombe ovunque In città E quindi Adesso posso guardare anche oltre di qua Qua non c'è niente Aspetta vediamo un po' qua Go to the office Go back to the office E come cazzo si trova? Ah ok Back to the office Perché non funziona? Non capisco perché cliccando su Ah forse Ok Va bene Non ho ancora capito ma va bene Quindi praticamente ci ha chiamato Ci ha depistato Facendoci andare lì Abbiamo trovato la sua parte quella scritta Dove praticamente ci diceva che lui ha posizionato bombe in tutta la città Ok This is not good Ok qua cosa c'è? Oddio Che cos'è questa? Cosa cazzo la va è questa? We prepare look picking hacking in the cryptation training station for you Oh figo Oh figo Aspetta 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 Ah ok così si fa No No pilot Ok Locking out of your auto-parricular locks Placed to lock pick and right angle to rotate in the unlock kit Repeat the training lock to correct the angle in rotation the lock Ok Ok E così non si può andare No Filed Perché file ed? Non capisco Allora aspetta Ah forse perché bisogna passare un pochettino Ma per Allora Aspetta 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 Adesso È questione di principio Forse devo far piano 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 Ma per Allora Così Così Ok Ok Sono coglioni io Oh Cioè qua deve essere proprio Open Oh porco giù del scariotolo Quindi questo è a posto Ok Open Ok Questo però sono riuscito a farlo Adesso devo andare dal computer Devo andarmi se tanto Ok Qua Decryption Ok Ok Decryption Ok Ah Sì scusate ho capito No Pagliato Scusate Cazzata mia Ok Vabbè questo qui è easy Dai Questa era easy da fare Hacking a lotto access Ok Ok Eh Dove devo arrivare Blue A posto Perfetto anche questo Fate tutto E' figo però Sto gioco Dai E' carino Go to work Ok Ho fatto tutto Tecnicamente No Quindi Go back to the city E come cazzo Si faccia andare Nella città Qua sempre No Ah La città Si faccia così Ok Si mi dimentico Sempre Che si va così Quindi Factory forest Un po' Sussiti di nuovo Allora Ok Vediamo Carino comunque Mi piace Mi piace E' più complicato Il lock picking Però L'hacking è easy Cioè Si va abbastanza tranquilli Ok Ci metto un attimo A caricarsi Ho visto Ok Allora Qua non sembrerebbe Che ci sia niente Niente Ok Qua niente Oh E guarda però su Però Vabbè Niente Qua niente Quindi Questo Qua ci sono delle viti Che possiamo togliere Per prima Ok Qua sembrerebbe Che non ci sia niente Quindi Questo Allora Anche qua Possiamo togliere Roba Piano Piano Oddio Oddio Questo Ok Ok Perfetto Ok Direi che Anche qua C'è niente Bello però Fatto così Magari Teglio sarebbe Ancora più carino Sì infatti Però è carino Già comunque Così il gioco Mi piace È vero che è carino Guarda che devi smontare tutto Per cercare la bomba Qua non c'è niente Experience 2 Di livello Niente neanche qua Ok Dove devo andare a vedere Allora Aspetta Qua forse Qua non me la caga neanche Sta parte qua La macchina Le macchine Non me le fa caga Non me le caga Ok Qua niente Vediamo qua Vediamo questo Niente Prossima Anche la musica è abbastanza angosciata Cioè bella ma angosciata Ok Ok qua niente Qua Qua c'è un telefono Qua niente Le macchine niente Vi ho detto prima Qua c'è un qualcosa Di nuovo Cacchius Questo qui è esattamente come prima Però 3 minuti e 14 Ancora ho di tempo Può darsi che ci sia qualcosa qua Vediamo un attimo Questo Allora Fermi Qua non c'è neanche Ormai stiamo praticamente Scassando tutto Tutto ciò che possiamo Lo stiamo scassando Aspetta Perché qua ci fa andare Qua sopra C'è qualcosa qua sopra Perché ci fa andare Fin qua Cos'è che ci dovrebbe essere qua No Fin the clues Forse è qua ragazzi Qua ci dobbiamo qualcosa Ragazzi Ci sono delle scarpe Ci sono delle scarpe E c'è un numero dentro Che su 42 Niente Non è niente Ma chi è quel monaco Che si vede tutta la città Non lo so Ok Forse non devo far così Ok Niente Mi sa che qua non ci sono Perché qua è tutto rosso Già di nuovo Eccola Trovata Trovata Non lo so Aspetta Ok Bianco Arancione Ok C'è una chiavetta dentro USB Grande Nice view Non for longer I hope Quindi Quindi questo qui Siamo riusciti a farlo Era questa la bomba Non era questa la bomba 5 minuti Ci ha aumentato il tempo Pum Vediamo Altre scarpe Niente Ok Ci ha aumentato il tempo Questa Però perché è rossa Sta porta Vediamo questo Ok Niente neanche qua Ok No Sta musichetta ti mette Un'inquietudine pazzesca Qua Mi sa che non si può entrare Ok Quindi qua niente Praticamente Non c'è nient'altro Da fare Anche questo qua Ma non penso Allora giù di qua Mi sembra che non ci sia più Nient'altro Abbiamo già volato ovunque Andiamo a vedere giù Dall'altra parte Non mi dispiace sinceramente Come gioco Puh E' molto carino Molto carino Aspetta che qua c'è qualcos'altro Altre scarpe Ok Ok qua non c'è niente Qua Non c'è niente Qua Non c'è niente Perfetto Ce ne dovrebbe essere una Qua vicino ragazzi Attenzione Qua potrebbe esserci la mina Però Perché ti fa venire qua sopra Se ce ne c'è niente Per andare di là Uh Ok Ok Qua c'è qualcosa No Qua però c'è Quest'affare qua Per farti saltare Non mi fa saltare No Dove sono finito adesso In mezzo alle fratte Ma cazzarola Dove sono finito Questa porta qua Non si apre Perché ci sento Dei bambini piangere Ok Ma mia cagoscia Uh uh Di nuovo Di nuovo Attenzione Bianca Verde Un'altra chiavetta Grande Polizian like him And the guardian of the weakest system Perfetto Altro Altro Fatto Queste qua Queste qua sono abbastanza easy Di bombe Niente Questo qua niente Qua Guardiamo questo Aspetta Qua bisogna fare veramente attenzione Se sbaglio a cliccare Esplodi male Se ci fosse qualcosa Se ci fosse qualcosa Ok Vediamo Ok qua non c'è nient'altro Perfetto Non l'abbiamo ancora trovata Dentro Alla Alla Posta Uh E' questo Ecco Perda Aspetta Sì ho visto Che è rosso Perfetto Perfetto Qua Altra chiavetta Grande I have to stop the machine By killing the maier I get my point across Ciao Derechino Ciao ragazzi Benvenuti By killing the maier I'll beck across And if I get rid Of a few gox They will come coming down Ciao Allie Benvenuta Come stai? Oh mia Ragazzi che ansia C'è giù un'ansia Questi nomi fa proprio Nel più guardare Strano Ragazzi Passate da Derechino Oh Yeah Attenzione Wey Gaglioffo Grazie per il fondo Ciao bello Benvenuto Come va? Quindi Ah ok Posso tornare quindi Penso di essere Potuto tornare nel back office Sei in just chatting Non so Ciao Derechino Scusa se non sono Sono passato a salutarti Ma dovevo correre assolutamente Da Da Floro Che dovevamo registrare Per poi ritornare in live Anch'io Perché era Di corsissima Eravamo Però ti amato Amenei ragazzi Dai Pensiamo positivo Uh C'è uno nuovo ragazzi C'è uno nuovo Attenzione Questo qua come cazzo Era là? Livello 2 Ho finito di me Di un capo lavoro Ma grande Grande Derechino Così ti voglio Go to the city Perché se Go to the city Di nuovo Vabbè andiamo Go to the city Aspetta questo qui Non me lo fanno anche guardare Perché devo tornare Go to the city Ok vabbè Torniamo Go to the city Mi direi che vado adesso Notte 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 Safi Buona notte Ma sai che carino Questo gioco qua Darek Ce ne vale Veramente la pena Provarlo La demo Veramente divertente Praticamente ti insegnano A disegnare in tutta la città Le bombe È fatto molto carino Go to my office Dove cazzo sarà My office Sarà giù di qua Allora Aspetta forse di qua Giù di qua Proviamo a vedere di qua È carino Cioè nel senso Mi sto divertendo È un casino Perché praticamente ti insegnano Prima i principi Poi c'hai un nemico Praticamente Che lui inizia a fare A mettere il bombe ovunque E tu devi riuscirle A disinnescare My office è questa qua Ecco quale cazzo Rola era Oddio Aspetta Ok Aperta Ottimo You get is locked You want to find Another way To end upper floor Vediamo un po' Tecnicamente qua È tutto chiuso C'ha ragione Cacchio E come cazzo Dovrei fare Fai vedere un po' Qua se c'è Non posso neanche A chiare i computer Ok quindi Aspettate un attimo Find your way to open floors Tecnicamente dovrei passare da qua Probabilmente No No neanche da qua Mi fa passare Qua intanto c'è qualcosa Però Come stai Gaglioffo Come ti va la vita Però vedete che qua c'è qualcosa Qualcosa qua me lo dà però Attenzione Vediamo un secondo Se per caso E dai Ecco ogni tanto Le meccaniche Non sono facilissime Da fare Aspettate This bomb has To be here somewhere Check out To main room E come cazzo Faccio altro Cercare la main room Qua Non posso saltare Così tanto Eh infatti Non ci arrivo A fin di là A meno che Non provo Tutto ok per oggi Ah ci sta Ci sta Non sono contento Forse giù di qua Non ho guardato in effetti Giù di qua ragazzi Magari giù di qua Find the bomb No Di qua è chiuso Qua non posso far niente Quindi non sarà di certo di qua Però me la dà qua Da qualche parte Me la dà O magari dall'altra parte Sono io che sbaglio Ma non penso che sia qua Perché questa qui L'abbiamo già disinescata Cioè L'abbiamo già tolta Questa qua E infatti Ok Questa qua l'abbiamo già tolta Dove cazzo sarà Sta bomba Cioè non posso salire dalle grate Non penso che mi fa salire dalla grata E infatti Proviamo a fare tutto il giro Proviamo a fare tutto il giro Dall'altra parte Magari c'è tipo una stradina Qualcosa Che mi fa salire dall'altra parte Tranquillo Vai tranquillo Puh Grazie ancora di essere rimasto fino adesso Ciao bello Tanto comunque un po' di punti L'abbiamo fatti ragazzi C'è da dire Ah forse sapete cosa Pertanto che non so perché Adesso si è rallentato Andava velocissimo Adesso si è rallentato Già il personaggio È stanco Ecco C'è questa maniera Per poter passare di qua Ma come cazzo la faccio Per passare dall'altra parte Mi domando io Perché tecnicamente Ci sarebbe la maniera Per fare così E sono caduto da stronzo In questo punto Però aspetta qua Qua è chiuso E qua è chiuso anche però Qua l'abbiamo già tutti aperti Eh sì per forza Dobbiamo andare lì allora ragazzi Forse di qua Ma no ma di qua no Perché è chiuso Però non ci abbiamo il tempo adesso Attenzione Aspetta guardiamo qua Se per caso è qua Allora vite 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 Non c'ha Non è neanche qua ragazzi Notte potressino Ciao bello Non è neanche qua E quindi dove cazzo Non la devo andare Qua direi neanche Ma che qua bello Uh questo Questo non l'abbiamo guardato Fermi Questo non l'abbiamo guardato Ok 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 Non c'è niente neanche dentro qua Ok ok Perfetto Avete visto che figata Questo gioco è troppo figo Cioè praticamente apri Ogni singola cosa Per vedere se Per caso c'è dentro O meno un ordigno Io poi giochi così Mi salto di brutto A giocarli Ok Ok Cioè questo qui poi specialmente È fatto veramente bene Però come cazzo Potrei fare a saltare bene qua Non è che c'è qualcosa Che devo vedere qua Vero no Qua niente Eh ma è per forza di là Allora che devo andare Ma come cazzo faccio A fare i salti lunghi Ci sarà una maniera Per saltare lungo Eh no Non mi salta lungo Fate un po' vedere Nei Settings Control Jump Sprint Ah ok C'è anche lo sprint Ecco perché Ok Forse facendo così In effetti Può darsi anche Che riusciamo adesso Con lo sprint Può darsi Che si riesce Fa cazzocco La magliato A me manderebbe paranoia Aspetta Lo sto già facendo Allora che ci penso Per lo sprint Non me ne ho accorto È vero Forse Eh no però C'è qualcosa Per forza Che dobbiamo passare Secondo me Da dietro Ma non so Come cazzo Passarci Cioè vi giuro Non so come passare Da qua Perché ovviamente Dobbiamo passare Da lì sopra E arrivare In qualche maniera Lì però Eh da che Ce la vai A fare in culo Cioè i salti Veramente di merda Sto gioco Secondary action First addiction Action Flashlight C'è anche la T Mouse zero Eh no Non c'è nient'altro Però Sono bloccato Sono bloccato Sono bloccato Perché qua Li avevo già fatti tutti Però Cioè non vedo Delle aperture Si illuminasse qualcosa Vi dico ok Si è illuminato Dobbiamo cercare di entrare Anche perché Di qua È tutto bloccato Dobbiamo in qualche maniera Entrare qua dentro Ma come? Da dove Soprattutto Da dove dovrei entrare? Perché qua Le porte sono aperte Adesso Cioè Sono riuscito A aprirle Quello del fattore Cioè Uno da dietro Dice Vabbè Passo da dietro Uno secondo Da dietro Ma Non penso Che ci sia qualcosa Qua C'è No Perché anche qua Vedete che ci sono Le scale Ma Cioè vabbè Sti pallet Così Guarda che non capisco Dove vuole andare a parare E niente Sono Finito malissimo No Ok 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 Qua non puoi aprire neanche una finestra Infatti ho pensato Se non puoi aprire neanche una finestra Probabilmente devi Salire sopra Ma come cazzo fai a salire sopra? Così Ok Ce l'abbiamo fatta Grandissimo Grande Ok Ok Ci abbiamo fatta ragazzi Fermi This do these nuts 25 secondi Heavy Eccola qua Ok Azzurro Ma non posso Perché non me li fa Ah ok Visto Ok Blu Rosso No Continua No ragazzi Bellissimo 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 E' bellissimo Sto gioco Cioè E' veramente bello Per un pelo Cazzarola Non l'ho trovato Prima Porca puttana Avessi trovato prima La bomba Ce l'avremmo fatta Ecco Ho capito dopo come farlo Got to the city Vai 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 Adesso che si pia con me Vai 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 Bello comunque Veramente molto bello Sì 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 Infatti Infatti Però E' intrigante Cioè nel senso Sì sì Lo so Lo so Lo so Lo so Lo so Rosaccio Rosaccio Ok Quindi da dove si riparte adesso Diffuse the bomb Ah ok Quindi proprio da dove Abbiamo lasciato La bomba era sopra Infatti te lo indica Ok Veroce 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 Guarda Guarda che te la indica Anche proprio Ma guarda Adesso me la indica Ok Con calma Con calma Gaglioffo Ce la possiamo fare Daglie Incitami Gaglioffo Ti prego Incitami Ho bisogno di Della tua forza Gaglioffo Perché ci dobbiamo fare No Cazzo Continua a cadere Come uno stronzo Ok Allora E cazzo E cazzo E cazzo E cazzo Ok Perché mi sbaglio Con i tasti A cliccare Perché c'è una cosa Un po' particolare Da fare qua Devi praticamente Farlo Quando Allora Più questo Più questo Più questo Più questo Ok Vai Ok aspetta Zoom Giallo Foxia Azzurro Rosso Ce l'abbiamo fatta Grande Secure the area Allora Allora Aspetta Grande Ok Allora Sì Possiamo fare Anche così 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 Perfetto Ok Neanche uno Qua Questo Questa No Si è rotto Ecco due E ho Gild Si è rotto Di nuovo Grande Ok Aspetta che Ve lo vedo Anche qua Però Aspetta Grande Ok Qua ci sono i bagni Qua non mi fa guardare niente I cessi Niente Ragazzi Ciao Critichino E Shid L'ho visto che L'ho visto che Ventava Cosa vuol dire Aio Dai Ragazzi Allora Si è lasciati a disinescarne Una bomba subitissima Ok Velocissimi ragazzi Di qua Di qua Cosa c'è Qua niente Questa non posso aprirla Qua si può salire Andiamo su Voglio vedere cosa c'è su Ok Aspetta così meglio Come ti va la vita Allora Critichino No Quindi in realtà Meglio metterla così No neanche così Però meglio metterla Perché è un casino Eh infatti Allora Mettiamola così 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 E così Perfetto Ma non ci lamentiamo Ci sta Ci sta Giusto Qua che cazzava c'è Qua niente Allora E' una demo questa qua Di steam ragazzi Se vi interessa No Non posso andare così Devo arrivarci da così Quindi questo qui Deve essere girato così E quindi questo Deve girare così Quindi questo qui E vai a fare In culazzo Ok No No Così 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 Ok Qua si può anche salire Cioè sto Ancherando il mondo Ragazzi No No Aspetta Aspetta Maracco Due Ah Che palle Sti giochi Non fanno così Odio le scale È una cosa che odio Odiamo General Fly Per figurarsi Nei giochi così Ok Vai Ok Ok Posto Ah ok Questo qui è quello Che ti portava poi giù Quello che abbiamo visto prima Che volendo Ti porta in giù Però Trucco due Perché non riesci a scendere Non è mai complicato Aspetta Facciamo così Prendiamo così Ma non ci credo Che devo fare dal contrario Ok Sì Questo qui ti fa scendere Praticamente Però ti fa arrivare Fino a qua E poi Non capisco Forse Aspetta Dov'era Che da salire Qua Ok L'urco di possenza Si urbana Se ci si becca A frappè Ok Va bene Tranquillo Il lurk incista sempre Ok Vai 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 Quindi questa porta qua Non si apre Qua sopra Possiamo andarci Ok Aspetta No si è rotto Allora Aspetta No si è rotto di nuovo Grande Ottimo Questo Allora qua non possiamo creare niente Però possiamo creare qua Ok Così 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 Perfetto Hai provato sto qua Crit? Questo è figo Te lo consiglio tantissimo Come gioco Eh cazzo Eh l'ho rotto Eh l'ho rotto Di nuovo È complicato Usare la fire Per scassinare A parto Ok di qua Qua non c'è niente Qua non c'è niente E qua siamo al primo piano Ok Allora qua si poteva scendere Giù di qua Si scende giù di qua Si scende giù di qua Ok Siamo tornati qua Perfetto Qua Ah ma devo mettere tutte le affari Che ficata Ok Ok Secure the bomb Devo riprendere la bomba Qua là sopra Di nuovo Sai sì Devo andare a riprendere E portarla qua sotto Quindi Mi sa tanto di sì Piano 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 Ok Grande Figata ragazzi Bellissimo sto gioco Mi è piaciuto tantissimo Veramente bello cazzo Bello 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 Mi aspettavo fosse così bello sto gioco Bellissimo si chiama Supper defuse the bomb simulation Questo qui me lo compro Subito Complimenti bello 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 Ragazzi volevo solamente Volevo andare un po' a giocare con Con den bombs ma alla fine non c'è nessuno Quindi mi sembra giocato questo qua E' carino Quindi straconsigliato assolutamente Supper defuse the bomb Anzi me lo vado subito a mettere in guicci lista Detto questo ragazzi Tanto abbiamo fatto un'oretta Non di più perché tanto comunque sono stanco Ci vediamo alla prossima Sempre qua su MESI TV Ringrazio Galliofo per il follow Ringrazio Critichino che è passato Ringrazio Derek per il Per il raid Ringrazio Potresino Che prima è stato un po' con noi E ragazzi Ci vediamo alla prossima Direi Andiamo a trovare qualcuno Vediamo un po' chi c'è in live Così andiamo Raidiamo qualcuno intanto Vediamo un po' chi c'è in live Allora 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 Forza Ciao 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 Grazie a tutti